I BERT operator definiscono i metodi di generazione delle particelle ed è un operatore essenziale per la generazione di un flow. Caratteristica particolare, non possono esistere due BERT all'interno dello stesso evento o di eventi connessi tra loro, ma si possono generare più BERT collegati ad un unico P-Flow Source. Abbiamo a disposizione BERT è l'operatore classico che definisce la quantità e la durata di emissione di particles se amount o per rate. L'amount è molto simile al use rate total che trovavamo nei sistemi classici delle particles. BERT Paint consente, in associazione con un altro helper, di poter generare le particles su un oggetto, andandole a dipingere su di esso. BERT Script permette di poter gestire la creazione delle particles tramite script. BERT Texture, dal nome è già intuibile, permette di poter generare le particles in base ad una texture. Initial Stain consente di creare degli inizi di stato delle particles in base ad altri eventi o flow presenti in scena. Questa operazione è molto comoda ed è stata introdotta nelle ultime versioni di 3DX Max. BERT File Anch'esso è stato introdotto nelle ultime versioni di 3DX Max e consente all'operatore di sfruttare le particles salvate in un file proveniente da Maya o SoftImage. Esistono altri BERT disponibili e facilmente riconoscibili per il colore verde dell'icona nel depot, ma fanno parte dei sistemi in particles, quindi per coloro che non hanno tale modulo non saranno visibili, mentre per tutti gli altri questi tools al momento saranno tralasciati poiché non di interesse in tale corso. Se invece avete installato delle plugins aggiuntive anche solo di comunicazione come per esempio RealFlow, troverete alcuni tools in più come accennato precedentemente.